SIGLA Com'era papà? Come te. Il più bello di tutti. Si mangiava la vita. Seconda! Ben arrivata! La mia mamma italiana, come stai? Una famiglia un po' allargata, intercontinentale. Ma chi è lei? Survey, l'ultima figlia. Ma non me ne è importante. Stefania è come la madre. Tre figli da tre padri diversi. E il padre dell'ultimo di dov'è? Della Giamaica. Esotico. È morto qui. Proprio in questo letto. Proprio qui mi dovevi mettere. Com'era Saverio papà? Per favore, parliamo di Saverio Attore. Una domanda per la moglie. Quale? Le moglie, le figlie, gli scandali. Controlla tu. Che ha fatto? Che te crees? Che non sei che parlabas con ellas de Vinos e luego te las tirabas? Tu sei l'unica che ha davvero amato. Si, io ero la mamma. Anch'io sono sua figlia. Va bene? Tu pensi che ci ho pianto apposta? Dunque Rita l'ha fatta apposta. Que, come da piccola. Non litigate, eh? Io sento per te un'attrazione inesorabile. È mia sorella. Ma di due madri diverse. Come ti chiami? Saveria. Questa non l'avevamo calcolata. So ritente accanto a me.